Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, stiamo vivendo momenti di grande cambiamento, momenti direi anche complicati, momenti che stanno creando preoccupazioni alle imprese, ma anche ai semplici cittadini. I costi delle materie prime, i costi energetici, sono preoccupazioni che ci accompagnano, ma noi non ci arrendiamo, dobbiamo saper cogliere questi due o tre giorni per poter vivere in serenità assieme ai nostri familiari, insieme ai nostri amici, per essere poi pronti a cavalcare quelle che sono le opportunità che noi imprenditori ci siamo prefissati nei nostri obiettivi. E proprio per questo voglio augurare a tutti gli imprenditori e ai loro familiari una buona e serena Pasqua.